Allora, con il direttore sportivo del Gallipoli, Gallipoli che impatta a Vieste, per colpo del Gallipoli o per merito del Vieste? No, per colpo del Gallipoli, è stata una bella partita, adirata, abbiamo avuto l'occasione inizialmente da poter sbloccare il risultato, non abbiamo creduto in questa palla e niente, il Vieste mi ha fatto una grossa impressione, è stata una squadra che sicuramente aveva più fame di noi in questa gara e quindi è questa un po' la chiave del risultato, noi potevamo sicuramente sbloccarla, non abbiamo avuto la capacità e abbiamo sofferto, poi c'è stato un errore clamoroso per me secondo me e giustamente il Vieste ne ha approfittato e ha fatto bene e il risultato si era un po' complicato, però abbiamo cercato negli ultimi dieci minuti di cercare quantomeno di riequilibrare il risultato, ci è andata bene perché è giusto che sia anche questa una cosa logica nella situazione, penso che il risultato della parità è giusto. Quando una partita non si può vincere, non si deve perdere, questo è alla fine lo so che del discorso, ma cosa non ha funzionato oggi secondo lei? Oggi qualcuno dei nostri è un po' sotto calo perché noi tiriamo la carretta da un po' di tempo, non abbiamo una rosa completa in panchina per poterle sostituire e quindi un po' alla lunga pesa questa situazione, ma non è una scusante, devo fare i complimenti al Vieste perché ha interpretato la partita nel modo giusto, quindi sono scusante che dobbiamo cercare di lavorare all'interno della nostra squadra. Non l'è perduto comunque per voi, per quanto riguarda la vittoria di questo campionato mi piace ne faticare un po' di più. Sì, sicuramente i risultati ancora oggi non ci danno tanta speranza, però noi staremo sempre lì e aspettare che qualcuno possa fare qualche passo falso e vediamo, speriamo di centrare quantomeno qualche vittoria perché è un po' di partite che stiamo pareggiandole e quelle sono determinanti anche perché mancano poche partite alla fine del campionato.